Ciao, sono Cristiano Libardi e questa è una nuova puntata di Ballon Park TV. Oggi mogliamo gli ormeggi e salpiamo verso il Mar dei Caraibi. E anche quest'oggi vi presentiamo un tema molto interessante, un classico delle feste, il Pirata Party. Iniziamo con un po' di accessori che vi faremo vedere e poi naturalmente termineremo con un piccolo tutorial molto molto simpatico. E veniamo con degli accessori per la tavola, iniziando con un bellissimo coordinato di Party Deco con bicchiere e piatto quadrato, bellissimo, che ha anche dei favolosi accessori. Intanto sono bellissimi perché hanno una confezione molto particolare. Ci sono ad esempio il cupcake, cake topper, poi abbiamo delle decorazioni, queste ad esempio sono decorazioni, sono delle barchette porta caramelle, molto simpatiche. E poi per finire il festone che vedete qui alle mie spalle. E ripeto, veramente una bellissima confezione. Veniamo al secondo, molto colorato, è un piatto piccolo e piatto grande. due formati di tovaglioli con due disegni diversi e poi una bellissima tovaglia con il suo bicchiere. Oltretutto, sempre coordinato, abbiamo un centro tavola in cartoncino. Anche questo bello. Anche questo bello. E veniamo ad esempio ad un po' di accessori, tipo ad esempio questo Pix e queste cannucce molto simpatiche. Veniamo ad esempio anche alle candele. Vedete una candela e una fontanina per la torta di pirogiochi. Abbiamo anche delle altre candele decorative con il classico pappagallo e tucano. Poi abbiamo dei fantastici box merenda o porta regali. E poi abbiamo un bel cannone. Su tutti i vascelli dei pirati c'è il cannone. Noi abbiamo lo spara coriandoli ed è fatto veramente bene perché il coriandolo è stampato con l'immagine del teschio. Molto carino. Poi abbiamo anche un po' di accessori. Qui vedete questi festoni, questi rosoni che vedete anche qui alle mie spalle. Io ho preso il nero e il rosso e ho decorato dietro ma di questi ne abbiamo di tutti i colori. Una decorazione per la porta. C'è nera. Questo è un prodotto Amscan ma ci sono anche qui diverse colorazioni. Poi abbiamo un pappagallo in cartoncino. Un altro festone in italiano quindi con la scritta buon compleanno a tema pirati. Due parti props carini per le vostre fotografie. Qui abbiamo anche dei fantastici gonfiabili porta bibite. Bellissimo. Immaginatelo con del ghiaccio e delle fantastiche bibite. Qui vedete il vascello dei pirati e poi una fantastica palma tropicale. Bellissima. Qui ci stanno bene le birre. E poi è anche abbastanza grande. Qui vedo un metro e ottanta di altezza. Bellissimo. E poi un po' di accessori. Vi ho fatto vedere prima la spada. Bellissimo l'uncino. Abbiamo anche la bandanna. Che dite? La metto? Il cappello. Come mi sta? Poi, 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 poi abbiamo anche un bel kit fatto da spada. Più all'interno della confezione c'è anche la benda, la benda del pirata. Abbiamo questo paio di occhiali molto, molto carino. Ma ne abbiamo anche un altro. Lo provo? Vi piace? E poi, 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 ecco qui abbiamo per terminare una confezione di sei maschere. Anche queste molto carine. E mi sa che abbiamo terminato con gli accessori e quindi facciamo un po' di pulizia perché ho da farvi vedere i palloncini. Ed eccoli i nostri palloncini. Iniziamo con i palloncini in foil. Abbiamo un po' di modelli. Iniziamo da questo 18 pollici con il nostro vascello. e questo è coordinato al piatto che abbiamo visto prima. Quindi, per le vostre feste in tema, è bello utilizzarlo. E poi abbiamo un bellissimo squalo con la sua benda da pirata e il suo cappello. Dopodiché abbiamo due modelli di nave. Molto, molto grande. Questa di Qualatex. Anche quest'altro modello. Molto simpatico. Poi, 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 voglio farvi vedere quest'altro 18 pollici. Molto simpatico anche questo perché ha una caratteristica. Qui trovate questa bellissima piovra. E poi, di qua, dall'altro lato, un bellissimo squalo. Piccoli palloncini. Bellissimi questi mini shape. Con pesce, pesciolino e il solito vascello. Ok? E notate le bacchette ecologiche Ballon Grip. E poi veniamo al lattice con Gemar con due modelli di palloncini. Confezione da 50 in GS 120, quindi un 13 pollici. Confezione da 100 pezzi in GS 110. Anche questo molto bello. Ve li faccio vedere dal vivo. Questa è il modello GS 110 nella confezione da 100 pezzi. Vedete? Nero e stampa bianca. Mentre invece il G120 c'è sia bianco che nero. A me piace troppo il nero. E notate il doppio colore di stampa. Ed ora passiamo al nostro tutorial. Ed eccoci con il nostro tutorial. Oggi voglio realizzare un simpaticissimo pesciolino. Andiamo a gonfiare i nostri palloncini. Prendo un modellabile, un D4. Ho scelto il colore arancio e lo gonfio. E poi inizio a fare quattro bolle. Poi... Pinch twist. Un altro pinch twist. Poi un altro segmento. Giro intorno. Un altro segmento. E ritorniamo verso la bocca del nostro pesciolino. e poi ne faccio un altro, ma un po' più corto dei tre che ho realizzato. Il più corto lo inserisco in mezzo ai tre. E cosa succede? Siccome è un po' più corto, si creano le curve. Questa parte la togliamo. Prendiamo un A50, un 5 pollici e lo gonfiamo. Prendiamo il nodo. E poi cerchiamo di dividerlo in due equamente. Ok, giro. e poi facciamo un nodo con il collo del palloncino. E poi infiliamo dentro al palloncino. Ed eccoci qua. E adesso facciamo due bollicine da mettere vicino al pesciolino. Gonfiando un modellabile trasparente. Alternando. Pinch twist e bolla. Pinch twist e bolla. Pinch twist. adesso mettiamo un po' di acqua Mettiamo gli occhietti al nostro pesciolino e adesso possiamo andarlo ad applicare alla nostra composizione. Dobbiamo collegare facendolo passare in mezzo e abbiamo decorato il nostro centro tavola. Per oggi abbiamo terminato, spero di essere stato utile per i vostri lavori. Vi ricordo di cliccare mi piace al nostro canale YouTube e cliccare anche sulla campanella così verrete avvisati ogni volta che noi pubblicheremo una nuova puntata. Se avete voglia, ci fa piacere di vedere i vostri consigli e i vostri suggerimenti qua sotto nei commenti. Anche qua sotto troverete un link con tutti gli articoli che oggi ho presentato e così potrete andarveli a guardare e magari anche acquistare. Ora vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!